Sicurezza sul lavoro ed emersione del lavoro irregolare. Stamattina i rappresentanti di tutti gli enti coinvolti si sono riuniti a Palazzo San Giacomo per firmare un protocollo di intesa per contrastare il lavoro irregolare nel settore edile privato. Il Comune di Napoli metterà in rete i dati sui cantieri di edilizia privata che si aprono in città e che verranno ora incrociati con quelli in possesso degli enti deputati al controllo. Uno sforzo enorme, il Comune e Garanzia perché ha il coordinamento per cui penso che questo protocollo sia veramente l'inizio per Napoli e per tutti i lavoratori un inizio importante per capire che a Napoli si può insieme vincere e realizzare dei obiettivi molto sfidanti come questo. Guardi, io credo che la verifica e l'osservanza delle norme in tema di sicurezza del lavoro sia una cosa necessaria e indispensabile da parte di tutte le istituzioni. Quindi io mi aspetto, come sicuramente avverrà, che l'inizio di questo processo di comunicazione tra vari enti, tra i vari attori del sistema, ci consente di avviare un processo che senz'altro ci porterà dei buoni risultati. L'accordo sottoscritto dai rappresentanti degli enti elencati in sovraimpressione prevede confronti periodici per il monitoraggio degli effetti della rete istituita ed oltre al miglioramento complessivo delle condizioni di lavoro l'operazione ha come obiettivo anche il recupero dell'ingente gettito fiscale previdenziale sottratto all'erario. Soltanto nel 2012 si sono aperti 5.000 cantieri per questo effetto a fronte di un numero almeno tre volte superiore di imprese di illi presenti in città. Allora è vero che c'è una crisi nel settore di ille ma è molto significativo il fatto che in realtà saranno moltissime le imprese che non denunciano la regolarità contributiva e la regolarità dei cantieri. Questo a discapito della sicurezza della manodopera, spesso nei cantieri a nero e quindi anche con tutti i rischi che ne conseguono le persone impegnate nei cantieri e consideriamo anche il danno erariale che ne consegue dalla mancata registrazione della manodopera dei lavoratori.